L'associazione antiracket Gaetano Giordano riparte da uno degli storici soci, Salvino Legname. E' lui il nuovo presidente, eletto al termine della prima riunione del nuovo consiglio direttivo, successiva all'elezione dello scorso fine settimana. In questo consiglio direttivo ho trovato molta tenacia quella di fare capire agli altri che vogliamo continuare la missione in modo sempre più determinato. Molti di queste persone, io le conosco da anni, quindi so bene con chi ho a che fare, so bene qual è il valore di queste persone, tranne qualcuno nuovo, ma che mi ha dato un'ottima impressione e soprattutto quello che è successo ieri nel consiglio direttivo, ho visto questo modo di amalgamarsi e di essere uniti e questa è la cosa più importante in un direttivo. Nel corso della riunione che si è tenuta nel pomeriggio sono state sondate le disponibilità di più componenti del consiglio direttivo, sulla base delle preferenze ottenute. La decisione sulla presidenza Legname ha avuto un pieno sostegno. Il neopresidente è da anni in prima fila non solo sul fronte antiracket, ma anche su quello del volontariato. La sua determinazione c'è ancora dopo tanti anni, nonostante la perdita di un figlio. Questo ha rafforzato, mi ha rafforzato umanamente, infatti io faccio tante attività caricatevoli, mi occupo di Caritas, mi occupo di associazioni che stanno lavorando bene nel territorio e di questo ne sono fiero e felice. Legname anticipa inoltre che c'è volontà di chiarire rispetto a quello che è accaduto in questi mesi e poi culminato nella cancellazione dell'associazione dall'elenco provinciale, deciso dalla prefettura. Ovviamente abbiamo avuto delle difficoltà e speriamo di chiarirle quello che è successo con il prefetto, spero che ci accoglierà e quindi avremo modo di conoscerci e far valere ovviamente le nostre ragioni. Quindi però dobbiamo scendere che un conto è essere iscritti all'albo prefettizio, un altro conto è continuare a operare tranquillamente e normalmente come si è sempre fatto. Il vicepresidente è Salvatore Di Trio, altro imprenditore da anni attivo contro il racket. Segretario tesoriere infine è stato scelto Nunzio Gangi. Del consiglio direttivo fanno parte inoltre Emanuele Lionti, Nicoletta Vitale, Giuseppe Romano, Paolo Maganuco, Massimo Provenzano e di diritto Franco Evangelista, vedova del commerciante Gaetano Giordano. All'interno del consiglio direttivo posto d'onore per la vedova di Giordano. Certamente, la vedova di Giordano è sempre in primo piano perché non è una storia che si può cancellare, anzi, si deve rivitalizzare e bisogna seguire soprattutto l'esempio di Giordano per evitare che accada quello che è successo allo stesso Giordano.